musica 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 ciao a quello alto e mele cindo noi siamo due cretini ragazzi oggi faremo una cosa proprio cretina cretina che noi cretini non potevamo non fare cioè bravo la prova a non ridere challenge ma 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 questa prova a non ridere challenge ha una cosa diversa dalle altre e ci illustrerà il nostro giambale alto allora questa prova a non ridere challenge consiste di non ridere chi ride di più perde e chi perde perde e chi perde deve fare una penitenza che diciamo detto una penitenza molto bella ma sono le 9 e 50 presto ok siamo sabato quindi alle 11 ci metteremo a cristo bene raga ci vediamo nel video ok ragazzi eccoci qua ora starteremo la verità ragazzi ora ci metteremo a fare la provando a ridere challenge e inizia e inizia vai frate inizia 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 avanti inizia e inizia ok ecco che Non scrivo un c***o E allora sai cosa ti dico? Queste penne non scrivono c***o amici Io mi devo agitare qui Non ne posso più Adesso andiamo a prendere queste Qui c'è scritto bene orecchiette Vedete amici? Orecchiette Apriamo orecchietta Io non sento bene Metto l'orecchietta Non sento più un c***o E allora anche questa è una c***o amici Come mai vendono solo c***o In Italia non capisco Ora abbiamo un pezzo forte E' scritto qui Uva passa Allora bene Prendiamo l'uva Questa uva passa Vedete? Passa 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 e non c***o Che c***o posso fare? Io mi c***o E uno E due E tre Come on amici Lo può Ti prego Io se guardo sto video Scoppio da ridere Ti prego Io scoppio da ridere se la guardo No Paura Vai Niente Niente Allora se ridiamo fortuna No dai non vale questo Mi prego non vale Questo vale Ma guardalo E come è diventato questo Madonna Anche No誰 Tutto Mi pego non vuole Correggio. Poi è molto sicuro. Facciamo schifo. Guarda il più bravo di me. Dai cadi. Meno male che i cinesi li credevo tutti magri. Ok ragazzi ci mettiamo a vedere un altro video. Un altro video. Perché quello era razzista. Era un po' razzista e un po' corto. Quindi ci mettiamo. Questa è sfiga. Ciao. Non è già Fortnite. Bravo. I bambini sono contenti. Ma. Wastig. Wastig. Che bello. Che bello. Che bello. Che bello. Che bello. Che bello. Ciao. Ciao. Bravo. Bye bye. Non sapevo Vai Quello fa male Perché va Qualcos'altro Continuo? Yeah Dai, parla l'impacto Brava Brava No, non te ne accorgi se non vado in avanti, no? No No, questo ci fa malissimo No! Marò Che brutto No, non te ne accorgi se non vado in avanti, no? No, non te ne accorgi se non vado in avanti, no? No, non te ne accorgi se non vado in avanti, no? No, non te ne accorgi se non vado in avanti, no? No, non te ne accorgi se non vado in avanti, no? No, non te ne accorgi se non vado in avanti, no? No, non te ne accorgi se non vado in avanti, no? No, non te ne accorgi se non vado in avanti, no? No, non te ne accorgi se non vado in avanti, no? è vero bene ragazzi il video finisce qui speriamo che vi sia piaciuto a parte questo video che era un po' noioso l'ultimo è la version vabbò speriamo che vi sia piaciuto il nostro primo video speriamo che vi sia piaciuto ebbene ci vediamo nel prossimo video ciao ciao